Siamo molto contenti e onorati di aver potuto presentare la edizione di SAI del 2013 qui nella sede nazionale dell'Associazione dei Costruttori dell'ANCE assieme al Presidente Buzetti assieme ai Presidenti dei Consigli Nazionali degli Ingegneri l'ingegnere Zambrano e degli architetti, l'architetto Freiri è un po' un primo risultato che ci fa molto piacere siamo riusciti a rendere permanente questo forum per il nuovo costruire italiano creato l'anno scorso dopo il terremoto dell'Emilia Romagna abbiamo sentito la responsabilità di dare una voce una possibilità di lavoro nuovo a tutti i protagonisti del mondo del costruire è accaduto e ora quest'anno il SAI è ancora di più un nuovo SAI un salone che significa salone dell'innovazione, dell'edilizia perché è sull'innovazione che bisogna puntare un salone che esiterà a Bologna dal 16 al 19 di ottobre prenderà come tema il Better Building e le Smart Cities una fiera che vuole essere un momento espositivo delle nuove tecnologie ma anche un format di incontro tra ricerca, imprese e professionisti e quindi questo momento di presentazione ci dice che questo SAI potrà effettivamente dare ai professionisti italiani alle imprese italiane, alla ricerca italiana un'occasione di cui c'è bisogno per rilanciare l'edilizia e per trovare un programma, un programma forte di cui il paese ha bisogno per lavorare sulle nuove città che sono necessarie e sulla nuova edilizia che deve realizzarla